ciao ragazzi bentornati sul mio canale sono vince oggi siamo con lui siamo con insta360 flow il nuovo gimbal di casa insta360 che ci permetterà di utilizzare il nostro smartphone e stabilizzarlo su tre assi proprio come ad esempio i gimbal più grossi per le macchine fotografiche reflex ne abbiamo visti sul mio canale anche altri come ad esempio quello dj vi ho portato appunto un tutorial approfondito che è stato molto apprezzato e quindi vi ringrazio e quindi ho deciso di fare lo stesso anche proprio per lui per insta360 flow proprio perché c'è bisogno di un bel tutorial approfondito su tutte le sue parti quindi io non voglio andare oltre siamo subito al tutorial ma l'unica cosa che voglio dire è quella di iscrivervi al mio canale per ovviamente supportare tutto il lavoro che faccio e approfittare fino al 19 aprile delle offerte di primavera di insta360 infatti se andate nel link qui sotto in descrizione fino al 19 aprile ci saranno tante offerte e potrete risparmiare un bel po' proprio sui prodotti insta andate a dare un'occhiata e adesso andiamo subito a parlare di insta360 flow andiamo subito a vedere come si presenta questo bel dispositivo. Questo video sarà diviso in capitoli quindi qui sotto puoi andare a cliccare il momento preciso di quello che tu vuoi andare a conoscere il video è molto lungo ma è molto dettagliato ed è appunto giusto che lo vado a dividere in capitoli quindi ti raccomando vai al di sotto di questo video e vai a prenderti il punto che stai cercando e così potrai scegliere meglio tutto quello che devi vedere e magari quello che già sai non lo vai a vedere e invece le nuove cose che vuoi approfondire le vai a prendere perché magari nella prima parte dell'utilizzo del gimbal non ti interessa magari passi subito dopo all'interno dell'app. La prima cosa da fare ovviamente è quella di andare a posizionare il gancio magnetico proprio sul nostro insta perché dovete andare a inserire questo questa clip vedete che c'è qui la foto o comunque un piccolo disegnino di una fotocamera deve essere appunto in corrispondenza proprio della camera del nostro telefonino per un uso corretto questo è uno stabilizzatore con una clip magnetica quindi in pochissimo tempo lo andremo anche proprio a agganciare ecco qua lo abbiamo già agganciato non ci basterà altro che tirare giù il nostro braccetto e voilà siamo già pronti con la nostra insta 360 e guardate è già partita anche l'applicazione in automatico quindi pronto veramente in quanto? Due secondi? Tre secondi? Beh direi veramente tanta roba guardate qui è tutto già connesso e sono veramente senza parole della facilità di utilizzo che ha questo gimbal per prima cosa andiamo ad analizzare un po' il corpo di questo gimbal vi faccio vedere subito questo che è un power bank integrato difatti tramite questo power bank e anche il cavo che vedete qui sotto adesso provo a farvelo vedere e questa uscita che c'è proprio qui sotto potrete collegare tramite i cavi in dotazione il nostro cellulare a questo power bank e questo ci permetterà appunto di tenere in carica il nostro cellulare veramente molto molto utile se non vogliamo andare a consumare la batteria del nostro device ovviamente invece per andare a ricaricare il nostro flow abbiamo quest'altra uscita ovviamente USB-C e quindi io cosa ho fatto? Ho inserito questo grip, questo grip di plastica l'ho inserito io ma viene fornito nella confezione e servirà e ve lo consiglio per tenere al meglio il nostro gimbal sarà veramente molto più comodo tenerlo in mano un altro trucchettino che ha questo gimbal è per tenerlo ancora meglio è andare proprio a dispiegare un piccolo diciamo così pezzo che si allunga ancora di più per riuscire a tenerlo ancora meglio nelle nostre mani e fare quindi tutte le riprese in un attimo in maniera molto molto facile non è finita perché se andiamo ancora a dispiegare questi piccoli piedini vi faccio vedere uno, due e tre questo si trasforma in un tre piedi e possiamo andarlo appunto a posizionare dove meglio desideriamo come vedete nella parte frontale abbiamo una rotella, un cerchio vedete qui con al centro un joystick che ci consentirà di andare a muovere proprio il nostro telefonino difatti andremo a muovere verso l'alto oppure verso il basso oppure verso destra oppure verso sinistra tutti questi comandi poi nell'applicazione potranno essere modificati, invertiti e anche a livello di velocità si può andare a cambiare tutto ma lo vedremo in questo video quindi non vi preoccupate come vedete abbiamo varie modalità, abbiamo la modalità automatica e il gimbal nella modalità automatica sceglierà da solo in base alla scena che si troverà davanti appunto grazie all'intelligenza artificiale che la fa da padrona come andare proprio a utilizzare questo gimbal e con un touch integrato vedete possiamo andare a cambiare con questo piccolo swipe nella modalità follow se andiamo ancora in avanti nella modalità pan follow e poi nella modalità appunto vediamo un po' se l'ha cambiata in questo caso lo faccio così perché non l'avevo visto ecco qui nella modalità FPV cosa cambia tra le varie modalità? beh ovviamente la modalità FPV come vedete segue completamente tutto il movimento del nostro gimbal invece se andiamo ad esempio nella modalità pan follow nella modalità pan follow vedete abbiamo che il gimbal se lo muoviamo a destra e a sinistra seguirà il movimento che gli stiamo dando e sarà bloccato invece se andiamo a fare questo movimento quindi il movimento su e giù sarà completamente bloccato il telefonino nell'altra modalità che è appunto la follow vado a rimetterlo abbiamo invece sempre questo movimento bloccato abbiamo sempre questo movimento disponibile ma abbiamo anche un movimento in cui il gimbal seguirà ve lo faccio vedere da quest'altra parte come ho fatto prima seguirà anche proprio l'inclinazione della camera vedete in quanta semplicità sarà possibile andare a utilizzare questo gimbal quindi funzioni molto diverse in base alle esigenze chiaramente su tutte le modalità è giusto farci un video dedicato che usciremo fuori vi farò vedere quale sarà la camminata più idonea da utilizzare quindi non vi preoccupate per cui sulla rotellina abbiamo il pulsante per attivare e disattivare la registrazione se spinto appunto una volta attiva la registrazione se spinto un'altra volta la disattiva questo pulsante che servirà sia per accenderlo o comunque per spegnerlo ma se lo clicchiamo solo una volta ci farà vedere lo stato vedete della batteria in questo caso la batteria è piena perché tutti i led sono accesi se andiamo a cliccare invece una volta e ve lo faccio vedere magari così se andiamo a cliccare una volta questo pulsante vedete passerà la fotocamera da frontale a fotocamera posteriore e viceversa guardate qui in un attimo se lo clicchiamo due volte il telefono si metterà in modalità verticale se spingiamo di nuovo per due volte questo tasto e ve lo faccio rivedere qual è il tasto è proprio questo qui il telefono si rimetterà in modalità orizzontale vi faccio vedere un'altra cosa se è sempre lo stesso tasto lo andiamo a spingere tre volte passerà da modalità foto a modalità video in un attimo quindi sarà molto semplice andare a cambiare tutte le modalità ovviamente il tutto lo potete fare anche tramite il touchscreen in questo senso abbiamo anche un grilletto un grilletto che se spinto una volta ci andrà a bloccare tutti gli assi quindi il tutto sarà bloccato vedete io sto girando e il telefono rimane nella stessa posizione invece se lo spingiamo due volte velocemente e si tiene spinto si attiva l'active plus e lo vedete lì in alto scritto questo servirà per andare a seguire delle riprese molto veloci quindi guardate come è molto più reattivo se invece lo andiamo a lasciare guardate quanto è meno reattivo e quanto è più fluido quindi si fa così doppio clic e si tiene spinto e vedete che si attiva appunto l'active plus se invece lo andiamo a spingere solamente due volte senza andarlo a tenere spinto si rimetterà al centro quindi si va a rimettere in posizione di default ok quindi se noi il gimbal ce l'abbiamo ad esempio andiamo a metterlo per un attimo così vi faccio vedere se noi andiamo a spingere due volte il grilletto senza tenere lo spinto vedete si rimette nella posizione molto comodo se dobbiamo andarlo a ripristinare in qualsiasi movimento che noi vogliamo fare non è finita qui perché sempre grazie a questa smart wheel che vedete proprio qui non solo è touch ma è anche una ma anche appunto una griglia qui nel lato quindi se si va su e giù vi faccio vedere cosa succede se noi andiamo avanti vedete il telefono andrà a zoomare se noi andiamo indietro il nostro telefono ovviamente andrà all'indietro vi faccio rivedere ok se noi invece spingiamo una volta veloce va nell'altra fotocamera vedete ancora qui guardate che faccione siamo nella fotocamera tele zoom e ovviamente si può poi continuare ad ingrandire se noi andiamo a spingere due volte verso avanti va subito alla massima al massimo zoom lo state guardando se noi spingiamo due volte indietro ve lo faccio vedere in questo modo praticamente facciamo questo lui si riporterà subito a quella che è la fotocamera minore adesso in questo caso non l'aveva preso eccolo qui veramente molto comodo il fatto di poter andare a zoomare questo ci consentirà di andare a fare delle riprese veramente molto molto precise questo è un po' tutto quello che riguarda il nostro gimbal cosa succede se vogliamo andarlo a spegnere molto semplice andiamo a fare questo gesto e voilà andiamo a togliere il cellulare e siamo pronti il tutto è spento e possiamo andarlo a mettere all'interno delle nostre tasche veramente un gimbal che mi sta piacendo molto l'ho provato ho fatto appunto anche dei video all'esterno ed è dotato ovviamente non solo di intelligenza artificiale ma di tutte quelle modalità che sono veramente ottime andate a guardare ad esempio una delle cose che mi ha più sbalordito è il tracking che ha questo gimbal è una cosa molto molto potente e anche molto facile da utilizzare difatti se voi ad esempio state guardando questo video se alziamo la mano in questo modo e si va ad attivare la relativa funzione il gimbal comincerà a registrare in automatico e ci traccerà guardate quanto è potente questo tracking e guardate quanto è fluido e quanto riesce a tracciare il mio corpo io ero qui nelle immagini che state vedendo in spiaggia ho fatto delle prove mi sono seduto mi sono alzato sono andato avanti indietro destra sinistra non mi ha mai perso ed è anche molto comodo appunto in quelle situazioni in cui siete da soli a dovervi registrare e quindi far partire il video andiamo a vedere poi dopo nell'applicazione come far partire il video sempre se vogliamo tracciarci oppure se vogliamo far partire il video e non tracciarci quindi riuscire a far partire il video e lasciarlo nella posizione in cui si trova per attivare il tracking quando lo avete in mano basterà spingere solo una volta questo grilletto guardate qui cosa succede ho spinto solo una volta vi si crea un quadrato sulla mia faccia e quindi quando io poi vado a muovermi guardate qui il gimbal seguirà proprio tutti i miei movimenti veramente molto figo se noi andiamo invece a toglierlo in questo caso vedete dopo non mi seguirà più è veramente molto facile in un click andiamo a vedere un'altra cosa vedete con il 3 tocchi riusciamo a portare il nostro gimbal sia in modalità selfie oppure in modalità di ripresa normale se andiamo a spingere una volta appunto trackerà la fotocamera e vi assicuro che in questo momento anzi facciamo partire un video e magari ve lo metto poi nel nostro in questo video in cui sto registrando andate a vedere appunto quanto è semplice guardate come sta tracciando in maniera perfetta la nostra fotocamera adesso potete anche vedere un po' di backstage io non sto facendo nulla sta facendo tutto appunto lui ok veramente molto molto bello molto facile vi faccio vedere un piccolo sportellino che è proprio qui basterà aprirlo e qui ci possiamo andare ad infilare un microfono ok quindi in questo in questa posizione possiamo andarci ad infilare il trasmettitore e avere poi al nostro corpo la ricevente in questo momento non lo faccio in modo che non stacco il microfono dalla fotocamera e non solo perché sul sito di insta potrete andare a comprare dei disegni da andare ad inserire qui dentro potete anche effettuare voi dei disegni vi farò vedere magari in uno short prossimamente come è semplice e quindi potete andare a personalizzare questa parte qui in maniera molto semplice basterà appunto inserire qui sotto il nostro disegno puoi andare a chiudere il tutto e siamo pronti per adesso direi di passare invece all'interno dell'applicazione in modo da vedere appunto come funziona il tutto all'interno dell'app e quindi fare adesso cominciare quello che è la parte di tutorial dell'applicazione ok siamo proprio all'interno dell'applicazione insta360 aggiornata ovviamente con il nuovo insta360 flow come al solito c'è la parte in basso a sinistra di esplora dove potete andare a trarre ispirazione con quello che gli altri utenti vanno a inserire poi vi è la parte appunto dell'album dove ci sono i vari video che voi andate a registrare e ovviamente le varie foto c'è la parte live della nostra fotocamera che andremo a vedere immediatamente e poi tutte le altre modalità quindi qui sotto potete passare da foto a foto panoramica eccetera eccetera ma lo vediamo tra un attimo ritorniamo nella home c'è la parte relativa alle storie dove possiamo andare a creare una storia e vedremo come creare una storia da zero oppure far far tutto all'editing dell'intelligenza artificiale ovviamente nella parte di destra andiamo a vedere tutto quello che è la parte relativa alle impostazioni quello che ci interessa è che andiamo a vedere subito è questa è la parte relativa all'applicazione facciamo subito una panoramica andiamo a vedere da sinistra verso destra tutto quello che va a farci vedere l'applicazione foto panoramica ok siamo nella foto panoramica andiamo in alto a sinistra e ci sono i tre pallini nei tre pallini ci sono le varie impostazioni la griglia se la vogliamo attiva o disattiva questa è la griglia dei terzi quindi possiamo attivarla o disattivarla possiamo attivare o disattivare l'istogramma della luminosità secondo me molto comodo possiamo attivare o disattivare la connessione pop up quindi quando andiamo a spiegare proprio il nostro gimbal il tutto sarà connesso automaticamente decidete voi io per comodità la tengo attiva abbiamo la possibilità di tenere attivato oppure no la ricognizione della scena infatti una volta che sarà abilitato quindi la scena viene analizzata e abbinata ad un modello di ripresa per quanto mi riguarda io disattivo questa funzione perché è un po fastidiosa io cerco di avere il controllo totale di questo gimbal ma per i principianti può essere invece una cosa molto molto utile da tenere proprio attiva fate voi e poi il controllo vocale questo una volta abilitato ci permetterà di utilizzare dei comandi vocali quando saremo in shot genie per visualizzare appunto i relativi modelli di ripresa anche questo momentaneamente lo disattivo anche perché è una parte che va anche a consumare molta batteria quindi per adesso io la tengo spenta tutorial abbiamo tutta la parte di tutorial possiamo lanciare il tutorial e vedere appunto come fare il tutto quindi andate a decidere voi se lo volete vedere oppure no c'è quindi se avete bisogno e poi abbiamo la guida operativa dei pulsanti dove ci verrà un po spiegato tutto quello che vi ho detto prima andatevela a vedere nel caso volete approfondire abbiamo poi la tipologia del dispositivo, la versione, il numero seriale se vogliamo salvare la panoramica non assemblata oppure no io la andrei sempre a salvare per comodità e per avere un maggior controllo poi in post produzione e poi abbiamo il ripristino delle impostazioni anzi scusate c'è anche il salvataggio del file originale nella modalità hoop che vi consiglio nel caso di tenere salvato vedremo poi che cos'è la modalità hoop non vi preoccupate qui ripristino delle impostazioni passando a destra dai puntini abbiamo appunto tutta la parte delle impostazioni proprio di flow quindi la modalità flow predefinita quale volete che sia automatico, follow, pan follow oppure fpv io scelgo follow mi piace tenere come impostazioni di default la modalità follow ma questo è appunto una mia abitudine e di come uso il gimbal andate poi sul campo a scegliere quella che più vi fa comodo abbiamo anche il metodo di cambio modalità difatti come vi ho detto e vi ho fatto vedere prima nel video o facciamo uno swipe da sinistra a destra sulla smart wheel touch oppure come vedete possiamo andare a cliccare due volte io vi consiglio di lasciarla di default nella opzione A perché l'opzione B potrebbe andare un po' ad incasinare alcune altre soluzioni però c'è, ve lo volevo far vedere quindi andate ad analizzare voi quello che è meglio per voi la velocità del follow io per adesso la andrei a impostare su medio quindi lasciatela magari su medio e fate le vostre prove come così la velocità joystick la velocità joystick è la velocità con cui andiamo a muovere flow vedete si è spostato molto lentamente se andiamo invece a farlo veloce chiaramente si sposterà in maniera molto più veloce nella modalità medio invece abbiamo una modalità che è una via di mezzo ovviamente tra la lenta e la veloce io consiglio lento per avere un controllo sui movimenti molto più fluido e scusate allora avevo cambiato quello sbagliato ecco qui andiamo su lento sulla velocità dei joystick la velocità del zoom anche qui potete decidere medio veloce o lento andate a scegliere quello che più vi fa comodo e la sensibilità del tracciamento vi consiglio di lasciarla su un normale perché se andiamo vedete ad abilitare un'altra modalità che è quella sensibile vediamo un attimo ci dice migliora la sensibilità del tracciamento diventerà più sensibile mentre spegne l'ace e causerà anche una sovra regolazione a causa della velocità e quindi non vorrei io che questo vada ad influire sull'ace quindi lo lascio normale il tracciamento automatico della videocamera frontale vedete se noi andiamo a mettere la fotocamera frontale mi si attiva subito il tracking questo potete decidere se metterlo oppure non metterlo guardate io sono innamorato di questo tracking quindi se lo volete oppure no andiamo a vedere dove era inserita nella seconda parte eccolo qui tieni il tracciamento di questa parte quindi se noi a questo punto andiamo a rifare il tutto vedete non parte il tracciamento quindi scegliete se attivare oppure no il tracciamento è una scelta vostra di come appunto volete questa impostazione possiamo andare ad invertire il anzi no tieni attivo il tracciamento ovviamente se attivo oppure non attivo possiamo andare a invertire il joystick orizzontalmente e verticalmente io direi di non invertirli così se vado verso il basso lui si sposterà verso il basso o verso l'alto lui andrà verso l'alto decidete voi audio e vibrazioni di flow vi consiglio di tenerlo attivo perché appunto vi darà la possibilità di andare a sentire quando viene cambiata qualche modalità molto utile secondo me e quindi tenetela attiva oppure fate come volete ok andiamo ancora al di sotto possiamo andare a fare la calibrazione automatica chiaramente andando a scegliere calibrazione automatica vi dirà cosa fare andate su prossimo e farà tutta la calibrazione in questo caso dovete metterlo su una superficie ben piana cosa che non è in questo momento per me quindi non attivo la calibrazione e ancora se andiamo avanti abbiamo proprio anche la regolazione dell'asse orizzontale quindi in questo modo andrete a vedere e vi farà vedere come impostare proprio il vostro gimbal se fate avvia verrà spiegato passo passo ho fatto delle prove appositamente nel tenere il telefono così nella parte che c'è sotto dove ci sono i tratteggi rossi per vedere se comunque me lo metteva dritto e quindi vi faccio vedere c'è qualche video che è venuto storto era una prova che dovevo fare quindi l'importanza di tenerlo dritto tra le due righe verdi è veramente fondamentale quindi vi raccomando mettetelo sempre bene perché in questo modo non andrà a scasinarsi il tutto questa è tutta la parte delle impostazioni di flow se andiamo a destra possiamo scegliere se andare ad ottenere delle regolazioni automatiche o manuali ovviamente in automatico la velocità dell'otturatore e gli ISO, l'esposizione l'unica cosa che potete cambiare vedete è questa potete andare a sottoesporre magari di 0.5 o sovresporre di uno stop eccetera eccetera questo lo decidete voi oppure lasciare che mettiate tutto in manuale ed essere voi quindi a comandare tutto quello che è la parte relativa alle impostazioni molto molto comodo se andate ad utilizzare dei filtri ND ovviamente sul vostro telefonino infatti in questo modo potrete andare a cambiare il tempo di scatto che è la velocità appunto dell'otturatore potete andare a cambiare gli ISO e ovviamente l'EV in questo caso lo decidete con la proporzione tra velocità dell'otturatore ed ISO se non sapete queste cose vi raccomando sono le basi della fotografia io ho preparato un corso di fotografia che è sul mio sito www.vincenzoelangella.it quindi con circa 15 euro ho comprato un corso completo base secondo me è un'occasione da non perdere vi lascio anche il link qui sotto in descrizione e poi bilanciamento del bianco potete andare a scegliere automatico lampada ad incandescenza vedete come cambiano i colori fluorescente, soleggiato, nuvoloso ombra, crepuscolo oppure personalizzato molto comodo se volete andare a decidere voi i gradi Kelvin ok in questo caso per comodità lascio un attimo tutto in automatico cosa possiamo ancora andare a fare se ci spostiamo a destra per quanto riguarda il dispositivo che avete chiaramente in questo caso io lo sto utilizzando con un iPhone possiamo andare a scegliere la massima qualità che in questo caso è il 4K e addirittura questo device mi consente di avere i 60 fps se voglio fare degli slow motion ma anche a 1080p oppure a 720p veramente molto comodo ma queste sono tutte impostazioni che cambiano in base al telefonino che andate ad utilizzare se il device che utilizzate arriva fino a 1080p chiaramente il 4K non ci sarà ok quindi andiamo a scegliere quello che più è consono per noi e poi ancora a destra c'è la home ok che abbiamo un po' visto prima andiamo a vedere quindi per ogni tipologia di foto le altre impostazioni che ci sono quelle generali le abbiamo viste e valgono per tutto abbiamo la foto panoramica allora vedete qui in alto abbiamo ad esempio quello che dicevamo prima quindi il shot cinici dirà da solo le riprese che dobbiamo andare a fare per creare dei filmati come questo quindi ci dirà passo passo quello che vogliamo andare a fare vedete se volete fare delle cose in famiglia per far vedere tutte le scene che potete andare a fare in questo caso il soggetto sta preparando il cibo oppure il set che sta andando a fare tutto nella tavola e ci sono appunto dei campi di video e il shot con questa ripresa pan from top of the box una serie di indicazioni che vi darà direttamente il flow molto interessante e proveremo a fare in un altro video proprio un video con i suoi consigli vediamo cosa viene fuori andiamo sotto abbiamo questo che è il tempo di scatto quindi possiamo decidere che il telefono se noi andiamo a scegliere 3 secondi dopo che abbiamo cliccato l'avvio della foto aspetterà 3 secondi 5 o 10 oppure se non volete il tempo di scatto lo disattivate in questo modo andando ancora sotto abbiamo tutti i vari filtri che possiamo applicare con anche l'intensità ce ne sono veramente tantissimi andateli a vedere e queste sono le modalità di scatto allora abbiamo una foto 3x3 quindi il nostro telefonino andrà a scattare delle fotografie in formato 3x3 e poi le unirà tutte possiamo fare anche una foto a 180 gradi se non vogliamo fare la foto a 180 gradi c'è anche una fotografia a 240 gradi vedete il telefonino si metterà in modalità orizzontale da solo oppure come vi dicevo ovviamente oppure abbiamo anche la foto a 360 in questo caso come ho fatto vedere nello short dell'altro giorno dovete andare a posizionare il ganso nella parte frontale quindi invertire il telefono e andarlo quindi a mettere in posizione come vi sta dicendo andatevi a recuperare lo short che magari vi lascio qui nelle schede perché l'ho spiegato già lì ok dopo la foto panoramica abbiamo la fotografia normale quindi anche qui c'è sempre lo shot genie in alto che per adesso non ci interessa possiamo andare a decidere di attivare disattivare il flash di tenerlo automatico oppure sempre attivo ok questo è a vostra discrezione quindi andiamo anche qui a decidere l'autoscatto 3, 5, 10 secondi anche qui possiamo andare a decidere di mettere qualche filtro veramente molto comodo e anche qui possiamo andare anche a decidere appunto se vogliamo andare a dare dei miglioramenti alla fotografia andiamo a vedere quindi in questo momento come funziona il filtro automatico quindi andiamo a togliere un attimo il tracking vediamo se lo riesco a togliere in questo modo perfetto quindi andiamo anche ad accendere la luce così magari abbiamo anche un po' più di luce vedete che in filtro automatico mi ha reso un po' la pelle migliore possiamo andare a decidere anche penso sia come appunto lisciarci un po' la faccia mi ha ringiovanito abbastanza possiamo andare a illuminare il nostro volto vedete con pochi clic ovviamente adesso sto esagerando possiamo andare anche a rimodellare vedete mi ha ristretto completamente tutta la parte qui possiamo anche andare a ingrandire gli occhi guardate come sono e il naso questo mi serve assolutamente andiamo a rimpicciolire anche il naso perché è fondamentale ok ci siamo divertiti guardatemi quanto sono bello e a questo punto ci scattiamo anche una foto perfetto direi che è venuta benissimo togliamo ovviamente tutti i filtri e qui possiamo andare a scegliere se attivare con questo gesto la fotocamera oppure no se io scelgo il primo vi faccio vedere farà la fotografia oppure se clicco il secondo che è con il tracking vedete mi ha mi ha messo al centro dell'inquadratura e quindi farà la sua fotografia andando a destra ancora andiamo nella parte video anche nei video funziona vedete tutta questa parte che andiamo ovviamente a eliminare e guardate come sono ritornato brutto in questo caso quasi quasi ma rimango con l'attivazione solamente di questo che mi liscia la faccia veramente molto top andiamo a spegnerlo così mi vedete come sono bello in tutta la mia bruttezza ok andiamo ancora a vedere quindi la parte video come funziona stavamo dicendo quindi siamo nella parte video sempre le solite cose possiamo attivare o disattivare i filtri questa è la vostra discrezione possiamo andare ad attivare o disattivare quello che vi dicevo prima per il volto possiamo andare ad attivare la parte del tracking che vi ho fatto vedere che vi faccio vedere magari nel video all'interno proprio di Insta360 andiamo quindi a farvi vedere anche un'altra cosa funziona sia in modalità video che in modalità foto se io vi ho detto spingo una volta il grilletto andrà ad attivare in automatico quello che è qualcosa da tracciare ok oppure se non siamo contenti del soggetto che ha preso possiamo andarlo a fare direttamente con un trascinamento del dito sullo schermo in questo caso siamo un po' più precisi nel prendere l'oggetto ok e poi con la X qui possiamo andarlo ad eliminare molto semplicemente doppio clic sul grilletto e lo riporta nello stato di prima ok molto facile dopo i video c'è anche l'impostazione per il timelapse in questo caso si aprirà qui in alto un pop up possiamo scegliere la durata dell'intervallo quindi una foto ogni 3 secondi ogni 4 secondi eccetera eccetera possiamo andare a scegliere quanto dovrà durare l'impostazione del timelapse se 10 minuti 20 eccetera eccetera con 10 minuti sono circa 6 secondi in base a quanto ovviamente dovrà durare il vostro timelapse quindi su 10 minuti sarà un timelapse di 6 di 7 e così via possiamo scegliere anche come impostare il timelapse quindi in questo caso dovrebbe aprirsi ecco qua in questo caso andiamo a scegliere anche la direzione del timelapse vedete sweepando può essere o angolo fisso andando a destra da sinistra a destra oppure da destra a sinistra oppure ancora un movimento personalizzato quindi vogliamo magari partire da questo punto e gli diamo l'ok ci spostiamo magari che ne so in quest'altro punto gli diamo ancora ok ci spostiamo qui in alto ok e ancora magari vogliamo andare a cliccare su quest'altro punto e gli diamo ok una volta che abbiamo scelto come impostarlo gli andiamo a dare il via e flow vedete fa un'anteprima di quello che sarà il movimento si porterà in impostazione per registrare il tutto e creerà il suo timelapse ok in questo caso non lo faccio partire ho fatto qualche prova comunque all'esterno ancora possiamo decidere quindi oltre al timelapse di fare un timeshift in questo caso si porterà in automatico in orizzontale vi faccio vedere il timeshift che ho fatto sul lì al mare che è appunto una prova e poi una modalità che mi piace tantissimo che è questa che è quella dello slow motion adesso vi faccio vedere qualche slow motion che sono riuscito a fare all'interno grazie a questa applicazione ma vi faccio vedere a quanti fps potrete fare appunto il tutto 1080p il massimo a 120 oppure andate a vedere a 720p eccetera eccetera sono sicuro di aver fatto gli slow motion anche a 240 fps non so perché in questo caso non me lo fa vedere non ne ho idea in questo momento non mi esce ok andiamo a vedere un attimo voglio riprovare siamo qui in slow motion ecco qui forse c'era stato un piccolo errore vedete lo slow motion potete impostarlo massimo a 1080p a 240 fps veramente tanta roba probabilmente questo cambia anche in base al vostro device che avete all'interno della vostra camera ma potete andare ad effettuare chiaramente anche il dolly zoom vi chiede appunto di selezionare un soggetto per me il soggetto è questo e poi appunto andando a facciamo una prova ma sono seduto quindi in questo momento sarà un po' difficile per me vediamo un po' gli do la prova e ci dice appunto di venire all'indietro in questo modo ok quindi andando a spingere stop andiamo a vedere appunto come è venuto adesso fa la generazione appunto del dolly zoom magari se riesco dopo ne faccio un altro fatto meglio a qualche oggetto non mi ero preparato per farlo adesso eccolo qua vedete si un po' si vede è un dolly zoom fatto un po' così però diciamo che non ero nelle impostazioni migliori sicuramente all'esterno e con un altro tipo di soggetto viene molto meglio se riesco anche a muovermi andando ancora a destra modalità widescreen per avere un formato molto più cinematografico e poi andando ancora indietro possiamo utilizzare la modalità live nella modalità live invece possiamo andare in live e utilizzare tutte le funzionalità proprio di insta360 flow quindi se premiamo avvia si entrerà nella modalità live su avvia broadcast appunto possiamo andare a fare una diretta si può utilizzare su tiktok instagram anche nelle chiamate e quindi si può fare veramente tanto anche con questa applicazione in modalità live la modalità hoop è una modalità appunto che si utilizza soprattutto nel in una scena di basket quindi dobbiamo posizionare il gimbal a terra il canestro deve essere allineato vedete nell'area che è stata designata e quindi non muovere nulla facendo la via rilevamento poi dopo il flow farà la magia vedo di trovarvi qualche filmato di di prova che è stato fatto magari proprio da qualcun altro per farvi capire un attimino meglio cos'è la modalità hoop ok andiamo e ritorniamo nella modalità magari foto oppure video uguale e andiamo a vedere se abbiamo guardato tutto se vi fa vedere appunto che il baricentro del telefono non è allineato andate a spingere guarda il tutorial e allineatelo in questo caso io ho il microfono attaccato sotto quindi questo crea uno sbilanciamento per quanto riguarda appunto l'uso di flow basterà un attimino ribilanciarlo e il tutto si metterà per il meglio abbiamo visto quindi tutte le impostazioni riclicchiamo ancora qui in alto se ci sono appunto degli aggiornamenti da fare andate su insta e vedete un attimino nella parte delle impostazioni invece andiamo a vedere un'altra cosa impostazioni della comunità non ci interessa andiamo sulle impostazioni del dispositivo e andiamo a vedere appunto le impostazioni dell'app logo del nadir ci consentirà di mettere oppure no il logo del nadir ma questo non è per flow ma è per quanto riguarda invece le telecamere a 360 possiamo decidere di mettere oppure no la filigrana nei video quindi se i vostri video dovessero uscire con la scritta insta flow questo dovete disattivarlo quindi lo tenete grigio e poi ci sono tutta la parte di impostazioni delle notifiche eccetera eccetera molto importante svuota cache se volete andare a liberare lo spazio che vi occupa appunto insta 360 flow andiamo a vedere come creare una storia quindi con l'intelligenza artificiale abbiamo già registrato qualche clip andiamo in storie e poi andiamo proprio su edit auto questa nuova funzione per fare far tutto all'intelligenza artificiale quindi basterà andare a selezionare delle clip ovviamente io ne sto prendendo un po' a caso selezionatene fino a un massimo di 30 se volete cliccate su prossimo e adesso farà l'analisi appunto di tutte le clip che ci sono e farà tutta l'intelligenza artificiale sta facendo l'aggiunta del clip degli effetti e a questo punto potete decidere creare un ritmo veloce di 27 secondi un ritmo bilanciato di 36 secondi o 45 secondi con un ritmo lento il consigliato ovviamente è quello in mezzo più clip voi metterete e più i tempi saranno diversi ad esempio nell'altra volta per fare una prova nel ritmo lungo quindi nel ritmo lento addirittura il filmato arrivava circa a due minuti quindi varia molto dalle clip che voi andate a fare andiamo su ritmo bilanciato e vediamo cosa succede andiamo a vedere cosa ha fatto l'intelligenza artificiale andiamo a fare quindi l'esportazione e poi alla fine potremo andare a vedere il video che è stato creato una volta che è stato salvato nell'album del vostro telefono lo andate ad esportare e pubblicare il vostro filmato dove volete se invece vogliamo andare a creare una storia che non sia fatta dall'intelligenza artificiale basterà andare sempre su storie crea una storia si vanno a selezionare le clip che volete andate su prossimo e in questo caso si apre l'editing video molto più avanzato rispetto a quello che era l'editing video di insta 360 con le camera 360 che abbiamo visto infatti possiamo andare a fare molte più cose c'è l'aggiunta di musica c'è l'aggiunta del testo degli sticker di effetti speciali ma per questo tipo di tutorial mi piacerà fare un tutorial singolo approfondito quindi per ora vi faccio vedere che c'è la possibilità di andare a creare appunto delle storie come più desiderate in maniera molto più approfondita con un editing più approfondito e quindi ve lo farò vedere in un tutorial dedicato vedete anche qui si può andare a velocizzare tutta la clip oppure solo un segmento insomma su questo ci faremo un video dedicato quindi iscriviti al mio canale per non perderti il video approfondito su questo tipo di tutorial bene ragazzi direi che vi ho fatto una bella panoramica per quanto riguarda l'applicazione qualcosa ancora bisognerà dire per quanto riguarda la creazione di contenuti sullo shot genie su tutta la parte dell'intelligenza artificiale ma questo è un tutorial a parte mettete un like commentate questo video per il lavoro che ho fatto per portarvi un tutorial completo a 360 gradi si può dire proprio su insta360 flow io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine se questo video vi è stato utile scrivetemelo qui sotto nei commenti e ovviamente magari scrivetemi qualche consiglio o qualche altra curiosità che siete appunto che volete che io vi porti sul mondo di insta360 flow ma anche delle fotocamere a 360 in generale io vi ringrazio per essere restati con me fino alla fine di questo video noi ci vediamo al prossimo ciao ragazzi ciao